Iniziamo Apuleio. Apuleio è un Madaurensis, cioè uno scrittore nato a Madaura in Algeria nel 125, così come Sant'Agostino. Anche Apuleio è uno scrittore africano. Dovete sapere però che fino all'arrivo dei Vandali l'Africa faceva parte del mare Nostrum, faceva parte della società civile romana, come se fosse parte del mondo romano. Era molto più civilizzata l'Africa romanizzata che non la Germania. Quindi lui ha un cursus, stavamo dicendo quindi del cursus, cioè della carriera, degli studi. Ecco, la formazione di Apuleio. Questa è una cosa importante su cui appunteremo la nostra attenzione. Cioè, mentre molti degli letterati che abbiamo studiato finora andavano a Roma, lì completavano la loro formazione, iniziavano magari il loro cursus honorum e basta, non si muovevano più da Roma, invece Apuleio passa anche a Cartagine e anche ad Atene. Ciò vuol dire quindi che Roma non è più l'unico centro culturale di formazione. Adesso su questo rifletteremo ancora. Quindi lo dice lui stesso comunque. Quando ero adolescente a Roma, prima di andare ad Atene, quando ero libero da frequentare i maestri delle lezioni, correvo a fuorvisita a Cornelio Frontone e mettevo a frutto le sue conversazioni linguisticamente purissime e ricche di importanti dottrine. Ecco, infatti si sviluppa nel secondo secolo. Ormai siamo nel secondo secolo pieno, mentre gli altri intellettuali, letterati che abbiamo studiato, compreso Tacito e Plinio Giovane, vivono a cavallo fra primo e secondo secolo, invece Apuleio nasce nel 125 e morirà dopo il 170. Comunque è un uomo del secondo secolo, pieno dell'età degli Antonini e non ha neanche conosciuto l'epoca dei Flavi, in generale del primo secolo. E questa è un'epoca particolare. Infatti nel secondo secolo, a livello di letteratura, abbiamo l'arcaismo di Frontone. Cioè, questo maestro di cui ha parlato appena adesso, in questo brano che abbiamo appena finito di leggere, Apuleio, c'è una scuola che tende a rivalutare gli scrittori arcaici, quindi, non so, sto parlando di Ennio, Livio, Andronico, cioè dell'inizio della storia della letteratura latina, o comunque il purismo, cioè una lingua latina pura, degli origini o comunque non contaminata. E' il purismo e l'arcaismo di Frontone. Mentre da un punto di vista religioso si affermano moltissimo i culti misterici, particolarmente quelli di Mitra, di Iside, soprattutto Iside comparirà, come vedremo domani, nel romanzo di Apuleio. E da un punto di vista filosofico si passa dallo stoicismo prevalente nel periodo, per esempio, dell'età di Nerone, al platonismo, o neoplatonismo, che prevale invece in questo periodo, cioè nel secondo secolo d.C. Anche di questo parleremo domani, leggendo l'asino d'oro, le metamorfosi di Apuleio. Leggiamo ancora un altro brano, tratto dai Florida. I Florida sono una specie di antologia di discorsi che ha tenuto Apuleio, era un grande oratore, un grande conferenziere. E in questi Florida ci sono riportati alcuni di questi testi, di questi discorsi. Dice infatti in questo brano Apuleio, la prima coppa, quella del maestro di scuola che dirozza l'anima. Ecco, qui fa un po' la storia della sua formazione, che è poi la storia della formazione in generale di un romano, come abbiamo visto anche studiando quintiliano. Cioè, i vari gradi di istruzione a Roma erano uno, quello del maestro di scuola, magister, il magister Ludi. Noi lo chiameremmo, non so, quello di scuola elementare. La seconda è quella del grammatico, che la istruisce nella dottrina. Il grammatico, secondo livello. La terza è quella del retore, che è l'armi di eloquenza. Quindi, terzo grado di istruzione è quello della retorica. Ma io ad Atene ho bevuto a ben altre coppe. Quindi, diciamo, a Roma si è formato, ha avuto la sua formazione, che è la formazione comune, diciamo, di tutti, diciamo, come possiamo dire, di tutti i rampolli delle famiglie più altolocate. Quelli che arrivano fino al grado di retor. Ma lui è andato oltre, no? Cioè, ad Atene, ho bevuto ad altre coppe, a quella fantasiosa della poesia, a quella limpida della geometria, a quella dolce della musica, a quella un po' austera della dialettica, a quella, infine, dell'universa filosofia, di cui mai ci si sazia e alla dolcezza divina del nettare. Quindi è andato ad Atene per studiare filosofia, soprattutto, anche altre materie, per carità. Quindi per approfondire gli studi che aveva iniziato a Roma. Dimostrando, quindi, l'amore per la cultura. La sua filosofia è essenzialmente platonica o neoplatonica, eccetera, ma con elementi anche di altre dottrine filosofiche. È il cosiddetto eclettismo. Si parla di eclettismo quando una dottrina filosofica, un sistema filosofico, non è così... Cioè, prende tanti aspetti da varie altre dottrine filosofiche, mettendoli insieme a costruire un nuovo, diciamo, sistema filosofico, appunto, eclettico. L'eclettismo in filosofia corrisponde a quello che è il sincretismo in religione. Cioè, mettere insieme più dottrine diverse. Ecco, quindi abbiamo detto che è un oratore stimato conferenziere. Poi, cosa succede? Succede che passa in una città della Libia, Tripoli di Libia, conosce la madre di un suo ex compagno di studi ad Atene, di Ponziano. È una donna che ha dieci anni più di lui, che è vedova. Lei si innamora di lui, lui si innamora di lei, si sposano. Dopodiché lei muore. A questo punto, però, i parenti di questa donna accusano Apuleio di averla... come dire, di averla irretita. che vuol dire di averla fatta cadere nella sua rete. Cioè, di averla sedotta. Lei, che era una donna comunque di dieci anni più anziana, con lo scopo di prenderne l'eredità. A questo punto, quindi, è processato Apuleio, ma si difende benissimo con un testo, che è appunto la sua Apologia. Apologia vuol dire difesa o de magia. nella quale respinge le accuse di essere un mago. Almeno, non come intendevano i suoi accusatori. Dopodiché, come stavamo dicendo, la vicenda umana di Apuleio dimostra, come dice anche uno studioso, che è Rizzo, La vita e l'opera di Apuleio paiono singolare esemplificazione delle caratteristiche dello spirito della sua epoca. Quindi, che cosa caratterizza l'epoca, il nuovo secolo, il secondo secolo dopo Cristo? Il cosmopolitismo. Quindi il fatto di sentirsi cittadini del mondo, cioè del mondo nel senso del mondo dell'impero romano. E quindi passare, come è passato Apuleio nella sua vita, dall'Africa alla Roma, all'Atene, alla Grecia, all'Italia, eccetera, perché ormai, come vi dicevo, non c'è più un solo centro culturale. L'amore per il sapere, per la cultura, per le scienze, a 360 gradi, quindi per la filosofia, insieme anche però per la magia, che a quell'epoca stava avendo una sua grande diffusione. A dire la verità, noi dobbiamo dire una cosa, i romani sono sempre stati un po' superstiziosi, quindi la magia non è una novità del secondo secolo dopo Cristo. Sta di fatto però che comunque certe pratiche si diffondono soprattutto nel secondo secolo dopo Cristo. cioè sono le pratiche degli incantesimi, cioè come dominare le forze della natura con un incantesimo, cioè con una parola, oppure con un oggetto, che può essere una statuetta, una bambola, una bambolina, e altri oggetti vari. Tutte queste pratiche magiche, nel secondo secolo dopo Cristo, si moltiplicano tantissimo. E il nostro Apuleio comunque, come adesso vedremo, era in un certo senso mago, aveva fama di mago, e non nasconde questo. Andiamo infatti a parlare dell'opera. Ecco, lui scrisse anche opere in greco, che però non sono pervenute fino a noi, e quindi abbiamo delle opere in latino, caratterizzate dalla varietà. Ecco, lui è un intellettuale raffinato, raffinato, è un intellettuale, abbiamo detto, che ha svariati interessi. Un amore per la cultura, per il sapere, ma non per un sapere settoriale, ma per svariati campi di questo sapere. E infatti lui dice, anche per quanto riguarda la letteratura, dice, io amo comporre poesie di ogni genere, quelle adatte alla verga dell'epico cantore, alla lira, poesie liriche, al sandalo, quindi della commedia, perché gli attori calzavano sandali particolari, quando interpretavano una commedia, al coturno, che è invece il vestito della tragedia. Comporre altresì satire ed enigmi, storia di vario soggetto, discorsi apprezzati dagli intenditori di eloquenza, dialoghi apprezzati dai filosofi, e questo è altro dello stesso tipo, tanto in greco quanto in latino. Anche il nostro Apuleio, come Pino il Giovane, non ha sicuramente la dote della modestia. Però, ecco, effettivamente c'è da dire che lui ha scritto tanto, ha scritto tantissimo, delle opere di poesia, però non c'è pervenuto praticamente niente. Ci sono rimaste, allora, l'Apologia, cioè De Magia, che è un discorso, un'orazione, poi ci sono rimaste le opere filosofiche, e poi soprattutto il suo capolavoro, che è il romanzo, di cui parleremo domani. Quindi la prima opera è l'Apologia, un discorso in difesa, quando l'hanno accusato di essere un mago, che aveva, con le sue arti magiche, convinto una donna, pudentilla, a sposarlo, anche se aveva dieci anni più di lui. Ma Apuleio si difende benissimo da tutte quante le accuse. Per esempio, quell'ignorante dell'avvocato dell'accusa diceva che lui era un mago, perché portava una misteriosa polverina, dietro, e lui dice, guarda che quella non è una polverina magica, ma è un dentifricio per la pulizia della bocca, che è il vestibolo dell'anima, la porta della parola, il comizio dei pensieri. E quindi, cioè tu sei un ignorante e non sai neanche che bisognerebbe lavarsi i denti dopo pranzo. Invece, lo so benissimo, e quindi porto con me questa polvere che serve per lavarmi i denti. Poi ancora stavamo dicendo, effettivamente, lui mago comunque lo era. Conosceva quindi una magia che è abbastanza simile, per esempio, alla magia che si trova ancora oggi presso le tribù, per esempio, qui abbiamo una tribù del Congo, presso le tribù primitive, laddove, per esempio, c'è la magia voodoo, per esempio, nelle Antille, quelle isole dell'America centrale. Cioè, quindi, sortilegi sulle persone attraverso degli oggetti o delle bamboline o delle statue, no? Da colpire al posto della persona. Quindi, c'erano questi riti magici che si erano molto, molto diffusi. però, nei confronti della magia, quindi Apuleio, dà un atteggiamento ambiguo perché non nasconde il fatto che è un mago e anzi si compiace di questo, però tende a distinguere quella che è la magia buona dalla magia cattiva. La magia buona è la magia dell'uomo Pius, Pius direbbe Virgilio, cioè colui che prega gli dèi nel modo corretto. Mentre la magia cattiva è quella invece negativa che serve solo per che non ha niente né di scientifico né di filosofico. Lì, allora, a quell'epoca c'è da dire la verità. Scienza e magia si confondevano. C'è anche da dire questo. Inoltre, lui professa a un certo punto il culto di Iside, cioè di aver abbracciato il culto di Iside, che è uno di questi culti misterici. Iside era una divinità di origine egizia, la sorella di Osiride. Ora, all'epoca, a Roma, si diffonde moltissimo questo culto, e quindi ci sono delle iniziazioni al culto di Iside. E questo lo vedremo soprattutto nell'ultimo libro, l'undicesimo libro del suo capolavoro, del romanzo L'asino d'oro o le metamorfosi. Anche Iside, secondo lui, è il culto di Iside, è una dimostrazione di una magia buona. In questo, ecco, poi parliamo adesso brevemente delle opere filosofiche di Apuleio. Le opere filosofiche risentono di questo ecletismo, cioè alcuni aspetti sono presi dalla filosofia di Platone, per esempio, le sue due opere De Platone e Deus Dogmate e De Deo Socrates, le prime due sono platoniche, mentre invece la terza opera filosofica che ci è pervenuta, quindi De Mundo, è di ispirazione aristotelica, proprio a dimostrare questo eclettismo. Poi sono opere di grande divulgazione, nel senso che, per esempio, la prima opera, il De Platone e Deus et Eus Dogmate è un grande bigino della filosofia di Platone, talmente ben fatto che praticamente, si può dire, tutti i medievali conoscevano la filosofia di Platone grazie a questo testo di Apuleio, dal momento che in genere i medievali non conoscevano la lingua greca direttamente. Le cose cambieranno con l'umanesimo, perché gli umanisti impareranno la lingua greca e quindi andranno a leggere i dialoghi di Platone direttamente, altrimenti molti facevano così, cioè leggevano il testo di Apuleio. Il Dedeo Socrates, interessante questo, infatti, il demone di Socrate è praticamente un demone, un essere, che evita al filosofo di commettere errori. E questo ci fa ben capire che i demoni per gli antichi erano talvolta non solo demoni cattivi, ma anche demoni buoni, come i nostri angeli, anche il nostro angelo custode, il demone di Socrate assomiglia molto al concetto cristiano di angelo custode, uno che non ti fa commettere errori, uno che ti segue e ti accompagna. Infatti, i demoni antichi erano mediatori tra gli dèi e gli uomini, non solo in funzione negativa, ma anche in funzione positiva. Al contrario, poi, i demoni cristiani diventeranno, cioè, quelli che tenderanno verso il basso, verso l'inferno, saranno i signori dell'inferno, o meglio, saranno alle dipendenze di Lucifero, di Satana, nell'inferno e del male. Mentre invece i demoni buoni, come il deo Socrates, il demone di Socrate, diventeranno gli angeli nella concezione cristiana. Infine, come vi dicevo, c'è il demundo, che è un'opera nella quale Apuleio riflette sulla cosmologia. Quindi, a testimonianza di questa cultura ampia, conoscenze, quindi anche in campo scientifico da parte di Apuleio, quindi non solamente nel campo letterario o nel campo filosofico. La presentazione del mondo, quindi. da una parte c'è la realtà sensibile e dall'altra quella divina. Quindi c'è, come avevo detto, soprattutto nelle prime due opere un po' di platonismo, quindi l'anima che si stacca decisamente dal corpo e vive nel cielo, nell'iperuraneo, e invece poi c'è una concezione cosmologica che è molto risente di Aristotele. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news